Luca Stella di Zucchetti, in che modo il digital può supportare la GDO Retail nell'organizzazione delle persone in questa nuova normalità? Oggi la nuova normalità impone ad organizzazioni quali GDO, Retail e Fashion di sfruttare il digital come vera opportunità per affrontare la nuova normalità. Infatti questo nuovo contesto ha sollecitato drasticamente le organizzazioni nel trovarle nel digital una risposta concreta a tutte quelle nuove necessità che il contesto ha portato. Noi come Zucchetti stiamo lavorando molto per supportare con le nostre soluzioni le aziende del settore e stiamo lavorando in questo periodo soprattutto su quattro asset che noi riteniamo assolutamente strategici. Parliamo di applicazioni mobile, parliamo di strumenti per il planning, parliamo anche di gestire tutto ciò che riguarda la parte di recruiting e continuous learning, oggi assolutamente fondamentali per aumentare la competitività dei punti vendita e parliamo di analisi. Riteniamo che questi quattro fattori siano gli asset strategici per riuscire a creare le condizioni giuste, importanti, nell'ottica appunto di favorire la trasformazione digitale nell'ottica appunto di gestire al meglio gli asset all'interno appunto di questi contesti. Quando parliamo di applicazioni mobile ad esempio parliamo di quelle soluzioni che riescano a velocizzare la comunicazione tra aziende e lavoratori anche inserendo funzionalità nuove per gestire l'attuale contesto come ad esempio El Check, soluzione che Zucchetti ha realizzato per il questionario di autovalutazione del lavoratore al fine di rilevare il suo stato di salute e gestire le attività del punto vendita in sicurezza. Parliamo di planning, quale tool per ottimizzare al meglio l'organizzazione delle risorse umane all'interno del punto vendita garantendo la qualità del servizio e allo stesso tempo un supporto concreto alle revenue del punto vendita. Parliamo di recruiting per gestire al meglio uno dei processi più importanti per aumentare la competitività che è appunto l'acquisizione di nuovi talenti ma poi questi talenti dovranno essere anche continuamente formati per riuscire a rendere fisiologico quello che appunto oggi la nuova normalità impone cioè il fatto di essere sempre pronti ad accettare nuove sfide. Quindi fondamentale diventa avere piattaforme di learning associate anche a un concetto di gamification per riuscire a rendere sempre concreti e attuali i paradigmi della continua formazione. Zucchetti quindi è il partner naturale di GDore Telefession per supportare e gestire al meglio la trasformazione di digitale in ambito HR.